Maria Lucia Revisore Attorno alla prima metà del secolo scorso qualcuno ha detto che è necessario un nuovo modo di pensare perché l'umanità possa continuare a vivere. Scusate il tedesco, la lingua originale della citazione perché se andate a googlare la citazione in italiano la frase non è corretta, parlano di sopravvivere. Weizelleben significa continuare a vivere. Noi vogliamo continuare a vivere, non sopravvivere. Per cui, bene, questo qualcuno non era un qualcuno ma era un fisico teorico forse il più grande di tutti i tempi che sicuramente non faceva riferimento a problemi ma sicuramente non problemi come quelli ambientali che abbiamo oggigiorno connessi a, si parla sempre di cambiamenti climatici, di crisi idrica, impatti dei cambiamenti climatici, frequenza sempre maggiore di eventi estremi. Il testo idrogeologico, come potete vedere dalle immagini, inquinamento atmosferico. Beh, l'inquinamento è una... la coscienza ambientale sull'inquinamento è venuta fuori negli Stati Uniti intorno agli anni 70. Pensate un po'. E, altra piccola parentesi, immagine un po' triste, la pianura padana, se qualcuno non lo sa, è considerata la maglia nera del pianeta per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Però c'è anche del positivo. Il progetto che sto curando, che adesso in conclusione, come unico responsabile dell'Università di Ferrara, il Comune di Ferrara e tanti altri bravissimi partners, che è una call europea che ha portato alla città di Ferrara 5 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria. Adesso a ottobre, dal 5 al 7, c'è la Festa dell'aria, che è uno degli eventi conclusivi del progetto. Sono tutti invitati a partecipare, ci sono un sacco di belle iniziative. Chiudiamo la parentesi e mi faccio sempre accompagnare all'inizio di questo mio talk da Einstein, perché per Einstein la crisi non era negativa. Perché la crisi significa un punto di partenza per nuove strategie, per un nuovo modo di pensare, per impostare nuove sfide. posto che cambiamo il percorso che ci ha portato alla crisi. Perché non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare quello che facciamo. Quindi dobbiamo rimpostare il tutto. Quindi perché utopia? Perché non razionalità, logica? Perché, sempre Einstein, diceva che il vero segno dell'intelligenza non è la conoscenza, ma l'immaginazione. La logica, la razionalità, sono ingegnere, ci porta da A a B, ok. Ma l'immaginazione, il sogno, ci può portare dovunque. Anche a fare quello che la logica dice, no, non si può. E in tutto questo, cito anche Steve Jobs, che nel discorso prima della sua morte all'università, dei suoi studenti dell'università di Stanford, diceva, stay hungry, siate affamati, siate folli. Beh, anche Roberto Benigni, che io stimo tantissimo, a Sanremo ha detto, chi sogna arriva prima di chi pensa. Non so se qualcuno si ricorda. Googleate. Bene. Allora, proviamo tutti a essere un po' visionari in questo mio discorso che sto iniziando e a pensare a, non necessariamente cose complicate, anzi, a un modello di sostenibilità che sia più in equilibrio con la natura. Perché diciamo che l'uomo qualche danno un po' l'ha creato. parliamo di una risorsa, la risorsa più importante per l'uomo, per l'ambiente, senza la quale nessuno può vivere. Ecco, non possiamo pensare di continuare con il vecchio modello, con il classico modello di gestione della risorsa idrica, secondo il quale c'è l'accumulo e la ricarica nel periodo in cui c'è l'acqua, per poi utilizzare l'acqua quando non c'è. Perché questo modello sta dimostrando, ha dimostrato, continua a dimostrarci di fallire. Beh, quando? Facciamo il semplice esempio dell'inverno-primavera-estate dell'anno scorso. L'acqua non è arrivata. Abbiamo avuto i fiumi, i corpi idrici superficiali, quindi le falde, ai livelli minimi storici. Ma è vero anche il contrario, purtroppo. Quando di acqua ne arriva, ne arriva troppa e crea disastri anche a lungo termine. Quindi, disastri con anche perdite di vite umane. Quindi, non va più bene. Cosa fare? Pensiamo a un altro problema. L'Italia è tutta costa. Abbiamo l'Enea, sono modelli previsionali, stima per la fine di questo secolo un innalzamento del livello mare. Tutti ne parliamo a livello mondiale. Pensiamo all'Italia. Enea tra i 0,95 e 1,45 metri. Secondo gli scenari, noi facciamo scenari modelli al computer, facciamo lo scenario più cautelativo o quello meno cautelativo, perché è sempre bene considerare entrambi i casi. Quindi, siamo nell'ordine di grandezza di un metro o anche un metro e mezzo. Beh, pensiamo a dei territori caratterizzati con questo scenario, caratterizzati anche da un territorio che è subsidente. ce li abbiamo qui. E pensiamo anche alla presenza di un corpo idrico superficiale che sfocia a mare. Ce li abbiamo qui. E pensiamo a una situazione estrema che si può verificare in cui abbiamo alta marea, mare in tempesta, fiume in piena. Può succedere che il mare non consenta al fiume di sversare le sue acque per cui le acque del fiume in piena si riversano ben solo dentro terra. Bene. Senza fare riferimento a qualcosa di recente, pensiamo per esempio al 2005, uragano Katrina, l'80% di New Orleans, in Louisiana, United States, è stata alluvionata. Beh, poiché hanno provveduto con le dighe forane, ok. Ma pensiamo, data la frequenza sempre più estrema, sempre più, sempre la maggior frequenza di eventi estremi, dobbiamo continuare a ragionare in maniera emergenziale o è bene iniziare a pensare in termini previsionali a volte. Beh, ero piccolina, i miei genitori, purtroppo anche loro entrambi ingegneri, mi hanno portato in Olanda a vedere le dighe, quindi è da un po' che gli olandesi hanno vinto la loro battaglia contro il mare con le dighe foranee. Beh, anche il MOSE, progettato, costruito nel 2003, in funzione dal 2020, ci è voluto un po', però funziona. quindi si può, l'utopia può essere realtà. Beh, anche un'altra, quando ero, studiavo, sono laureata ormai, sono passati vent'anni, e sistemi di accumulo erano le dighe, sono le dighe, caratteristica delle dighe qual è? L'impermeabilizzazione, deve essere impermeabile, non deve perdere acqua. Beh, adesso si inizia a parlare, lo vedremo, anche di sistemi di accumulo sotterranei. Beh, sistema di accumulo sotterraneo, anche che consente un'infiltrazione in falda, cosa che prima non era possibile. Bene, ragioniamo. Cosa cambia tra accumulo in superficie e accumulo in profondità? Lasciamo stare l'infiltrazione in falda. Se io accumulo, immaginate quanta acqua io posso perdere se accumulo in superficie, per evaporazione, e quanta acqua non perdo invece, risparmio, se accumulo in profondità. Beh, ora pensiamo alle nostre città. una decina di anni fa, i nostri amici cinesi, amici io ci collaboro, insomma, sono bravissimi, però, hanno combinato anche loro un po' di, hanno inquinato, hanno costruito, realizzato super metropoli, però, anche loro si sono resi conto di aver esagerato, e che dovevano cercare di rimpostare il pensiero, di rimpostare le città. In che senso? Rendere, tornare, a prima, cercare di replicare il naturale drenaggio del terreno, che esisteva prima dell'edificazione. Quindi, come? Realizzando delle nature based solutions, soluzioni naturali, quindi niente di strano, che rendevano le città assorbenti, quindi città spugna, sponge city. Quindi è nata il concetto di sponge city. Per realizzarlo, ho fatto uno schemino mio mentale, bisogna ragionare però a tutte le scale, già alla scala di edificio, poi eventualmente, sicuramente a scala maggiore, quindi a scala di quartiere, poi a scala di città, e poi per chiudere il bilancio, dato che purtroppo, essendo un ingegnere, si chiude il bilancio nel dominio di studio, e quindi si ragiona a scala del dominio, entro il quale si chiude il bilancio idrico, che è il bacino idrografico, e quindi a scala territoriale, a scala maggiore. Cerchiamo di ragionare un po', a scala di edificio. Che cosa si può fare a scala di edificio? Beh, si può fare. Si possono realizzare degli invasi di detenzione, quindi raccogliere, accumulare l'acqua a scala di edificio. Accumulo l'acqua che posso utilizzare per lavare le auto, per lavare le scale, per irrigare. Posso realizzare tutte le forme di verde orizzontale, verde verticale, che sono i tetti verdi, i giardini pensili, le facciate verdi, i living walls, che sottraggono dell'acqua ogni volta a seguito di ogni evento meteorico, che poi restituiscono naturalmente per evapotraspirazione in atmosfera. Si può fare già qualcosa, ma aumentiamo la scala, andiamo a una scala maggiore, pensiamo al quartiere. So se qualcuno ha mai sentito parlare di rain gardens, giardini della pioggia, e sono dei pezzi di verde, dei tratti di giardino, di avallamenti a bordo strada, realizzati artificialmente o naturalmente, che consentono l'infiltrazione in falda, e quindi anche, grazie al potere autodepurante del terreno, la filtrazione e la depurazione dell'acqua. Se poi ci inserisco anche specie anti-smog, possono anche depurare l'aria. L'Australia, che è la mia second home, è piena di rain gardens, ma anche Stati Uniti. Possiamo realizzare dei sistemi di accumulo sotterranei. ci sono anche sistemi che consentono poi all'acqua di infiltrarse in falda e di andare a ricaricare le nostre care falde acquifere, a me carissime. Possiamo realizzare in vasi di detenzione a scala locale, che sono anche qui dei piccoli avvalamenti, che si possono allagare a seguito di alcuni eventi, o in vasi di ritenzione, che sono già piccoli stagni, che possono essere allagati ulteriormente. Un'altra, non so se qualcuno ha mai visto in Olanda, l'Olanda ne è piena, infatti sono stati l'ora di inventare le piazze d'acqua. A livello urbano, le piazze d'acqua sono semplicemente delle piazze progettate per assorbire, filtrare l'acqua a seguito di eventi medi, meteorici, e poi essere completamente allagate a seguito di eventi intensi. Mi è venuta da aggiungere questa immagine, non è una piazza d'acqua ma potrebbe esserlo, si allaga. Non ero a Ferrara quel giorno, ma ho visto le immagini dei surfisti. Quindi, andiamo a scala ancora maggiore. Andiamo nel macrosistema, ossia a scala urbana. Cosa possiamo aggiungere? Beh, le metropoli ormai, Londra, hanno gli urban wetland parks, quindi questi grandi parchi urbani. L'abbiamo anche in Cina, ne ha costruiti tanti. il South Los Angeles Wetland Park, nato dalla riabilitazione di un ex parcheggio di autobus. Poi ci sono anche varie altre forme di verde, come corridoi verdi, come direttrici verdi lineari, che corrono parallelamente ai corpi idrici superficiali, come per esempio a Oakland, che le infrastrutture verdi hanno unito una serie di parchi, una rete di parchi. e pensate che una classifica che ha preso campione 30 metropoli mondiali, ha fatto una classifica per potere assorbente, quindi potere assorbente delle città. E ha classificato Oakland al terzo posto. Oakland, se qualcuno, è la città più grande della Nuova Zelanda, non essendo la capitale. Bene, altro esempio di corridoio verde urbano, nato in Cina, a seguito della riabilitazione di un sito post-industriale, di un sito, un brownfield, un sito industriale degradato. Mi viene più facile certe parole in inglese. E a scala più grande abbiamo, quindi a scala di bacino, tutti voi, o quasi tutti, insomma, abbiamo le classiche aree di laminazione, che è già un approccio consolidato, ma c'è qualcosa di più che non è stato tanto implementato, un'altra utopia, realizzare delle aree di lagunaggio in corrispondenza della costa. Cioè vado a realizzare dei bacini di stoccaggio dell'acqua in corrispondenza della costa. Questo è un esempio, è stato difficile trovarne. E cosa vado a risolvere oltre quello? Noi sappiamo che i territori costieri vivono in equilibrio tra terra e mare. Noi siamo in Italia, viviamo in costante equilibrio terra-mare. Bene, se non piove le falde vanno giù, il mare, abbiamo visto che sta salendo, beh, il mare avanza. Ogni estate si parla di cuneo che avanza, cuneo che avanza. Bene, se io vado a evitare che tutta quest'acqua vada in run off, in ruscelamento al mare, vado a rimpinguare le nostre falde acquifere, contrasto l'avanzamento del mare, quello che noi nel termine tecnico chiamiamo intrusione in salina. E quindi è un'ottima tecnica da realizzare nelle zone costiere. e poi abbiamo anche quello che fanno nelle grosse metropoli le cinture verdi intorno alle città, anche quelle hanno un potere assorbente. O nelle metropoli mondiali, quelle scandinave, volevo dire che hanno i fiordi, i classici cunei verdi o fingers, dita verdi, secondo il modello stellare di città. Ma quindi dov'è in tutto questo l'utopia? L'utopia è proprio nel tornare indietro e nel ricostruire considerando la natura in equilibrio con essa. Aggiungo qualcos'altro. Il World Water Development Report dell'United Nations, le Nazioni Unite, nel 2020, ha scritto lo dico in inglese e poi lo traduco Unconventional times call for unconventional water resources. Cioè il tempo non convenzionale richiede l'utilizzo di risorse idriche non convenzionali. Per esempio, se io vado a prendere dell'acqua dall'umidità dell'aria o se vado a utilizzare i reflui per produrre elettricità. Queste sono delle risorse non convenzionali. Ma non è tanto nuova come cosa. Se pensiamo che i nostri archeologi hanno trovato nelle zone desertiche, deserto di Atacama, quindi in India, scusate, gli Inca, in Egitto, in Israele, territorio caratterizzato da sempre fanno la lotta per avere l'acqua, sono bravissimi gli israeliani come gestione dell'acqua. Bene, e hanno trovato questi sistemi secondo i quali, tramite i quali, loro prendevano acqua dall'umidità dell'aria. Bene, un esempio di un brevetto israeliano che stiamo applicando per il progetto europeo è un vassoio semplicissimo. Le cose più semplici sono quelle più in equilibrio con la natura. Un vassoio in polipropilene che consente, inserito sulla base della pianta, di catturare, convogliare verso la pianta, tutta l'acqua di condensa, di rugiada, all'umidità dell'aria. E quindi consente un risparmio in termini di irrigazione. Questo per chi parteciperà alla... ci sarà una passeggiata, si vedranno tutti questi vassoi. E tutto questo ci sono... Quindi questi sistemi si chiamano atmospheric water generators. c'è un altro brevetto che è un idrogel che consente di ricavare sempre acqua dall'umidità dell'aria utilizzato nell'urban farming. L'agricoltura è un settore super idroesigente. Beh, se riusciamo a ottimizzare anche l'acqua nell'agricoltura abbiamo fatto bingo. In tutto questo un altro esempio di economia circolare, di ottimizzazione del risparmio idrico è la sera idroponica in cui io coltivo la pianta in acqua con soluzioni ammendanti, nutrienti. Il non plus ultra, l'economia circolare al 100%, il risparmio idrico fino al 95% è dato dall'abbinamento della idroponica con l'allevamento di pesci. Quindi si chiama acquaponica e consente cosa? I rifiuti, le acque organiche dei pesci, vengono depurate dalle piante che le utilizzano come sostanze in materia nutritiva che poi depurano l'acqua e rientra in circolo. C'è un circolo perfetto, quindi un risparmio fino al 95%. L'ultimo esempio di utopia che vi voglio raccontare. 15 anni fa ho lavorato con i miei colleghi del Politecnico di Bari dove mi sono laureata e ha un'utopia, ha un qualcosa che è stato considerato da tutti irrealizzabile. No, non si può, non va, non funziona. Beh, quest'idea, che vi dirò tra benissimo, è stata brevettata, ha avuto brevetto patent italiano e internazionale ed è stato poi industrializzato. Quindi anche qui richiamo il mio amico che dice che tutti sanno che qualunque cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno che non ci pensa e la realizza. Cosa consiste? Immaginate, cioè consiste nella produzione di energia a livello anche condominiale, perché lavora a temperatura corporea senza nessun tipo di emissioni, CO2, emissioni negativi odori, acqua, quindi l'utilizzo della materia organica più le acque refle più eventualmente gli sfalci del giardino per produrre metano, acqua e terreno agricolo in soli due giorni rispetto ai classici sistemi che ne impiegano 30, 40. Tutto questo che significa? Significa appunto che riesco a utilizzare quello che è rifiuto per produrre energia in due giorni, senza emissioni, senza cattivi odori e quindi questo significherebbe che se ogni impianto condominiale, ogni condominio avesse questo sistema potrei non aver bisogno di una serie di cose tipo raccolta dell'organico, reti per il gas, potrei avere delle produzioni ogni edificio indipendente. Questo è un'utopia per il momento, il brevetto non lo è perché è stato industrializzato, ma questo è quello che potrebbe essere il nostro futuro. Per cui poi vado a considerare le nostre città come un insieme di positive energy districts, distretti energia positiva. Se io ci aggiungo anche la produzione di energia rinnovabile con tutte le forme di energia rinnovabile, mini turbine eoliche con minimo impatto acustico o fotovoltaico eccetera eccetera, beh, questo è un'utopia, è un sogno. però gli manca qualcosa. Ora, penso che magari qualcuno ha già l'idea e per non perdere troppo tempo vado velocemente, anzi vi racconto una delle ultime cose che ho fatto su cui sto lavorando. L'energia rinnovabile è discontinua. Oggi ne ho, ho tanto caldo, tutto il caldo che ha fatto quest'estate, tutto il caldo, energia tutta persa. Beh, e se tutta questa energia noi l'avessimo potuta conservare, accumulare per poi utilizzarla quando arriva dicembre, gennaio, in quelle giose giornate di dicembre, gennaio, febbraio? Perché no? Beh, questo è possibile. Si può stoccare l'energia ma non necessariamente a mille metri di profondità, anche a pochi metri di profondità. Adesso ci sto lavorando a livello modellistico, ma anche sto impostando dei modelli di laboratorio, quindi a scala di laboratorio, per poi andare anche a scala di campo, per poter accumulare, stoccare l'energia solare termica nel sottosuolo e poi riutilizzarla. Qui ho fatto una simulazione per un centro sportivo, ma in teoria si potrebbe fare anche a ogni piccola scala. questa è un'utopia, adesso, oggi, che ve lo racconto, ma io spero che questa speculazione, questo insieme di idee, di sogni, di visioni, possano essere una base concreta per ragionare, per pensare, per poter rimpostare meglio le nostre città. Grazie.